Grazie a tutti. Grazie. 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 avete 30 minuti. Grazie. 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 Angela. Angela. Mi mandi Patrick. Appena è andata via. Ancora? Ma sta andando qua? Eh no, si è appena saltata andava fino a due secondi fa perché stavo controllando. Però adesso la faccia ripartire dopo, adesso sta andando qua. È verde. Guarda che devo segnare. Adesso voglio dire a finire e poi ripartiamo. No, ma com'è possibile? Sposta. Eh però devo segnare i punti, eh? Sposta un attimo. Sì, sicuro di non aver toccato niente. Ma è qui, grazie. 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 Fa su? Si. C'è qualcosa che non va. è saltato di nuovo non penso sia il mio internet è collegato e connesso qua va? grazie